buonasera a tutti che io sia con voi siamo oggi nella chiesa armeno cattolica di aleppo dove abbiamo ricevuto l'icona benedetta della madonna dei dolori che la consolatrice dei siriani perciò noi abbiamo pregato per la pace e abbiamo pregato la madonna per aiutarci a continuare la nostra vita e di lasciare lontana da noi questa malattia che è diventata internazionale preghiamo per noi ma soprattutto oggi abbiamo pregato per voi carissimi amici dell'europa di tutto l'occidente di tutte le città del del mondo la germania l'italia la francia dove c'è questa malattia questo virus la corona che è diventato un grande male il signore ha detto ci sono dei spiriti malini che non escono se no con la preghiera il digiunio e noi preghiamo la madonna oggi per voi tutti amici carissimi che pensate a noi e preghiamo per noi affinché la madonna come ha detto al signore non c'è più vino non c'è più felicità non c'è più pace non c'è più salute il signore può fare quello che si deve per ridare a noi la pace la pace la sua pace dare a noi la salute che cerchiamo in questi giorni e ci dà la gioia in preparazione della festa della risurrezione che dio il signore sia con voi con questa madonna la madonna che è la consolatrice di noi siriani